Marco Zanon e gioco per la nazionale italiana Rugby Under 20 e il mio giocatore preferito è Michele Campagnaro. È il mio giocatore preferito perché lo seguo fin da quando ero piccolo e secondo me ha delle doti fisiche, tattiche eccellenti. Gioca a centro, come me, ed è il mio preferito perché è un giocatore completo sia in attacco e in difesa. Ha iniziato la sua carriera con il Rugby Treviso e quest'anno gioca con gli Extra Chief ed ha avuto molti caps con l'Italia e voglio fare la sua stessa carriera. Sicuramente è un giocatore importante per la nostra nazionale perché è di ispirazione a tutti i giovani giocatori come noi. Ora gioco con la nazionale Under 20 e spero di raggiungere i livelli più alti possibile e vestire la maglia nazionale maggiore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.